I carabinieri del nucleo operativo e radio mobile di Luino e quelli della stazione di Castelbeccana, all'alba di giovedì scorso, hanno arrestato un ventenne albanese del luogo. Ad aiutare i militari dell'arma, la vittima che, dopo aver subito il primo furto ed avendo ricontrato l'assenza di segni di effrazione, ha installato una telecamera all'interno del suo appartamento davanti alla porta d'ingresso. Dalle telecamere, dopo qualche giorno una sorpresa, il topo d'appartamento era il vicino di casa che, certo dall'assenza del proprietario, si era introdotto furtivamente, avuto scoperto indossando un paio di guanti rose e lattici per non lasciare impronte. Dall'appartamento l'uomo aveva già sottratto a più riprese un telecomando e piccole somme di denaro, per un totale di circa 100 euro. Quando ne è eseguito il provvedimento carabiniero, ha acquisito l'abitazione del giovane albanese, rinvenendo alcune chiavi di dubbia provenienza. Sono in corso certamente per verificare che non siano duplicate delle chiavi d'ingresso di altre abitazioni già visitate tra l'orestato.